Progetto multidisciplinare di innovazione sociale che ha come obiettivo la creazione e la riqualificazione negli spazi di prossimità all'interno delle aree residenziali. Questo è Cube, promosso e condotto da Dance Gallery. Ha come oggetto un intervento di riqualificazione a Corciano, precisamente nel quartiere Il Rigo. Ce ne parla Noemi Campanella. Da quartiere è diventato dormitorio senza servizi e senza spazi di socialità che fu progettato con ben altre ambizioni nella metà degli anni 70 da Renzo Piano a quartiere riqualificato e rigenerato. Stiamo parlando del Rigo di Corciano al quale è destinato un finanziamento del Ministero della Cultura. Inoltre Dance Gallery si aggiudica il bando rientrando tra i 37 progetti finanziati a livello nazionale su oltre 1550 proposte presentate. Il quartiere è dotato di aree e servizi fruibili dal progetto e messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Un anfiteatro, cucina, sala per incontri di circa 80 metri quadrati, la sede del locale del Circolo del Quartiere. Inoltre è presente un'unità abitativa originale definita la sede del Vecchio Circolo, attualmente non in uso per il suo pessimo stato di conservazione. Entrambe le sedi saranno trasformate in presidi culturali permanenti con funzione di quartier generale, delle azioni creative e luoghi espositivi. Ed è esattamente quello che prevede il bando Cube, azioni creative, interattive e performative, incentrate sulla coprogettazione e la partecipazione degli abitanti in una logica di cucitura del tessuto urbano e di tessitura di una trama narrativa che colleghi il quartiere con l'antico borgo di Corciano e viceversa. Un progetto multidisciplinare di innovazione sociale che ha come obiettivo la creazione e la riqualificazione degli spazi di prossimità all'interno delle aree residenziali tramite la pratica artistica. E qui si inserisce Dance Gallery, associazione perugina che dal 1994 si occupa di arti performative. Ha rispettato le stanze del bando, creare nuove forme di utilizzo dei luoghi al fine di migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali, l'incentivare e l'attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il coinvolgimento di istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio con l'obiettivo di favorire un processo di riappropriazione delle comunità coinvolte.